Alberto Matano ha dato un annuncio bellissimo che ha reso i fan al settimo cielo Succederà molto presto e lui è molto felice.Il famoso conduttore Rai si sta godendo le sue vacanze estive, nell'attesa che ricominci una nuova stagione televisiva Del resto i suoi progetti sono sempre molto impegnativi e gli hanno permesso di diventare uno dei volti più amati della tv italiana Da ormai qualche anno, è infatti al timone della vita in diretta, il tv-shop meridiano che aggiorna i telespettatori sulle novità in tema di attualità e cronica Matano è inoltre felicemente sposato con Riccardo Mannino, e i due appaiono sempre molto felici In modo del tutto inaspettato, è adesso arrivato un annuncio che ha reso tutti pazzi di gioia A divulgarne la notizia è stato proprio il diretto interessato L'annuncio di Alberto Matano su social, cosa è successo.talento, personalità e professionalità, sono questi gli elementi che contraddistinguono più di tutto il noto volto Rai Matano ha infatti sempre dimostrato di essere un conduttore sopra le righe che, con uno stile impeccabile, riesce a tenere incollati i fan al piccolo schermo Se ne sono accorti tutti durante il programma La vita in diretta, che rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli italiani Ad aver attirato l'attenzione è stato però un annuncio dato dal conduttore in queste ore, e che ha mosso gli animi di tutti coloro che lo seguono Nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, che si è tenuta qualche giorno fa, è infatti stato annunciato cosa succederà durante la prossima stagione televisiva Tra i tanti progetti in ballo, ci sarà come sempre La vita in diretta, il programma che va in onda su Rai 1 e che sarà anche stavolta condotto proprio da Matano A darne l'annuncio è appunto stato il conduttore che, sul suo account Instagram ufficiale, ha fatto sapere ai fan che la sua partecipazione al TV show Rai è stata confermata Si è saputo inoltre che il programma partirà il 9 settembre alle 17.05, e sarà anche quest'anno denso di sorprese e colpi di scena Numerosi sono stati i commenti scritti dai followers, che non hanno perso l'occasione per congratularsi con il presentatore per questo nuovo traguardo professionale Alberto Matano è infatti diventato, ormai da un po' anni, un volto fisso del pomeriggio di Rai 1 e senza la sua presenza si sentirebbe senz'altro una grande mancanza Ciao!